da ogni punto di vista quando è che il fare del bene diventa un gesto divino guida fare del bene a una creatura o ciò che si crede bene è una cosa incumiabile da ogni punto di vista ma diventa divina solo quando chi la compie sa quello che fa e soprattutto sa sopportare di buon animo tutto quello che l'azione comporta sia come conseguenza immediata che come conseguenza nel futuro ciò significa che quando il sacrificio è talmente forte da porvi in uno stato di annientamento di voi stessi tale che l'azione buona quanto volete non possa essere giustificata da tale annientamento allora è preferibile che l'individuo conosca se stesso valuti le proprie forze e restringa l'azione nei limiti di queste poiché un solo aiuto anche grande non è mai fattivo quanto tanti aiuti minori nei confronti dei propri simili